tra i grandi vantaggi che abbiamo noi che coltiviamo l'orto non c'è solo quello di mangiare prodotti freschi e genuini abbiamo infatti il grande privilegio di coltivare anzi di poter coltivare delle varietà di ortaggi che comunemente non troviamo al supermercato nella puntata di oggi infatti vi volevo mostrare anzi consigliare due ortaggi che vi permetteranno insomma di avere un orto top quindi mi raccomando se siete interessati iniziamo subito andiamo allora ragazzi eccoci qua per chi non mi conoscesse io sono claudio in questo canale si parla di orto siamo arrivati in autunno si sentono le temperature c'è bisogno della felpetta anche la mattina e soprattutto la notte le temperature si sono sensibilmente abbassate quindi intanto un piccolo input è quello di completare il vostro orto invernale perché come sapete le piante invernali crescono bene nel freddo ma per crescere per sviluppare hanno comunque necessità di essere trapiantate quando ancora le temperature sono midi entriamo però subito nel vivo dell'argomento puntata piuttosto veloce però ci tenevo veramente tra l'altro ieri ho continuato a riempire il mio campo catalogo ho lasciato queste due varietà di piante proprio perché ci tenevo a mostrarle a condividere con voi soprattutto per darvi un input e eventualmente un consiglio degli acquisti allora queste varietà che vi presenterò parlano asiatico nel senso che questi sono due ortaggi entrambi appartenenti alla famiglia delle brassiche parliamo innanzitutto del cavolo cinese non lo so se l'avete mai piantato pianta a ciclo culturale molto rapido guardate che spettacolo intanto complimenti a ortoflora perché le piantine hanno veramente un apparato radicale già molto sviluppato quindi so già che questa pianta verrà veramente importante considerate che può arrivare a pesare addirittura un chilo e mezzo cresce a cespo guardate che splendide foglie che abbiamo qui sembra proprio un incrocio tra una lattuga è una verza un cavolo verza riccio molto buona da mangiare si usa principalmente gruda proprio perché ha tantissime proprietà benefiche all'organismo ottima però anche per preparare stufati minestre cioè questa d'inverno veramente molto particolare cavolo cinese comunemente anche detto cavolo di pechino proprio perché questo è un ortaggio che viene utilizzato tantissimo nella cucina cinese coltivazione molto facile parliamo del sesso di impianto è una pianta che come ho detto tende a creare delle foglie ma a differenza degli altri cavoli non cresce moltissimo in larghezza un 20 centimetri 20 30 centimetri tra una pianta e l'altra è già più che sufficiente vi mostro infatti perché diciamo che questa è la seconda tornata di cavolo cinese che vado a fare vi mostro quella che ho già piantato venite allora eccoci qua come vedete le piante stanno crescendo l'ho piantate all'incirca due o tre settimane fa già si sta sviluppando una pianta tra l'altro che è molto produttiva volendo anche questa ricaccia quindi non necessariamente dobbiamo raccogliere tutto il cespo ma è possibile anche tagliare la parte delle foglie quindi effettuare una sorta di cimatura e questa pianta continuerà a gettar fuori veniamo adesso al secondo ortaggio questo non l'ho mai coltivato personalmente ma ritengo che sia veramente non so che è buonissimo da mangiare ma ritengo che sia uno spettacolo della natura anche vederlo guardate che bello allora si chiama pak choi non mi chiedete che vuol dire però è anche questa una pianta appartenente alla famiglia delle brassiche guardate che spettacolo un mix tra un sedano e una bieta tant'è che fa queste coste quando cresce queste coste molto importanti può essere cucinato anche questo stufato gratinato ci sono tantissime ricette tra l'altro come vi ho detto importante iscriviti al canale e attivate la campanellina perché tutti questi ortaggi che sto piantando nell'orto sono all'incirca 150 varietà poi le andremo a cucinare quindi andremo a capire come possiamo valorizzare gli ortaggi che ci portiamo in casa per preparare veramente dei piatti deliziosi e allora continuando a parlare del cavolo cinese anche questo non richiede un sesso di impianto molto importante proprio perché la pianta rimane piccola si sviluppa intorno ai 60 70 centimetri e io la andrò a trapiantare utilizzando appunto questa parte di orto la andrò a mettere laggiù però diciamo che il sesso di impianto è simile a quello che vedete voi quindi vi consiglio anche questa di andarla a mettere approfitto però tra l'altro per parlarvi di un ortaggio che invece ho messo ieri mi sono anticipato e niente ve lo faccio vedere venite perché è veramente bellissimo allora la varietà che vi volevo presentare appunto il cavolo rapa che secondo me è proprio uno spettacolo della natura guardate che particolarità questo cavolo che cresce questo l'ho trapiantato ieri che cresce a forma di palla fa effettivamente proprio una orapa io lo ritengo un miracolo della natura perché è veramente bello mi piace tanto non l'ho mai coltivato sesso di impianto 40 centimetri da una pianta e l'altra proprio per permettere la crescita di questa palletta che poi si andrà a mangiare si mangia ovviamente la rapa si possono anche consumare le foglie bene allora ragazzi come avevo anticipato una puntata piuttosto breve però ci tenevo a parlarvi di questi tre ortaggi vi consiglio di metterli e soprattutto vi consiglio di rimanere aggiornati sul nostro canale intanto grazie per l'attenzione e noi come sempre ci vediamo ai prossimi fantastici video ciao